La Fiat come ve la vende questo cambiamento? È come una torta alla panna. È trascorso un mese dal referendum che si è svolto tra operaie e dipendenti Fiat dello stabilimento di Mirafiori. Intorno alla questione si sono dette molte parole. Oggi con Europocket assistiamo un dibattito organizzato dagli studenti dell'Istituto Tecnico Avogadro in cui si confronteranno davanti ai ragazzi proprio FIOM e Unione Industriale. I punti delicati dell'accordo sono sostanzialmente tre da quel punto di vista, dal punto di vista giuridico formale. Il primo è il passaggio dei lavoratori alla nuova società che comporta la mancata applicazione del codice civile all'articolo 2112 e quindi come dire un peggioramento delle condizioni normative dei lavoratori che perderanno tutti i diritti che avevano acquisito e dovranno entrare in una nuova società che in realtà è la vecchia Fiat, perché questo non cambia la proprietà, non cambiano le ragioni industriali. Ci chiediamo se tutto ciò è compatibile con le leggi esistenti. La Fiat dice io faccio degli investimenti, voglio avere la garanzia che poi una volta fatti gli investimenti e quindi avviata la produzione non venga usato in maniera strumentale l'utilizzo delle armi sindacali. Il secondo problema riguarda il diritto di sciopero, lì c'è dal nostro punto di vista una manovensione, un indebolimento, una grave limitazione nella possibilità dei lavoratori di organizzarsi e scioperare per le loro condizioni di lavoro. Come cambia il lavoro degli operai dopo il referendum? Con la nuova organizzazione del lavoro consentiranno agli operai di faticare di meno, e quindi saranno meno gravose le condizioni e questo consente, attraverso un sistema che viene introdotto in azienda, la riduzione dei minuti di pausa. Il terzo problema riguarda la democrazia e la rappresentatività sindacale, nel senso che in quell'intesa è previsto che la FIOM perda il suo diritto di rappresentanza. Nel momento in cui voi non avete firmato l'accordo del 23 dicembre, sapevate che questa sarebbe stata la conseguenza? No, non eravamo assolutamente consapevoli delle conseguenze. Ci sono ragioni di principio che però non ci potevano consentire di firmare quell'intesa. Nessun sindacato, dal nostro punto di vista, ha la possibilità di manomettere diritti che sono dei cittadini, che naturalmente rimangono cittadini anche in fabbrica. Il sindacato firmatario si impegna a non compiere atteggiamenti, che in sostanza possiamo semplificare per dire a non fare sciopero, in quei turni, in quelle condizioni di lavoro che ha contrattato. Questa è un po' la vera novità, se vogliamo, dell'accordo di Mirafiori, di Pomigliano e di questo sistema che è stato introdotto da Fiat a fronte degli investimenti. Ma noi stiamo già verificando che qualche azienda ci chiede di, come dire, del tutto in parte di applicare quelle normative. Non è un fenomeno diffusissimo. Lo sforzo che sta facendo il sistema è di provare a vedere se questo tipo di clausola possa essere magari anche utilizzata da altre imprese. Se riusciamo a inserirla in un contesto di contrattazione nazionale, ancora meglio, perché potrà essere comunque negoziata anche in altri campi. Dopo l'accordo di Mirafiori, la Federmeccanica ha già detto che bisognerà mettere mano alle relazioni sindacali prendendo i contratti alternativi, quello aziendale rispetto a quello nazionale, e nello stesso tempo mettere in discussione il diritto di sciopero a livello generale. Queste sono cose molto gravi, insomma. Sì, io ho paura. Le mie scelte di vita che erano state fatte fino ad ora, io ho sempre voluto fare l'insegnante, sono dovute cambiare proprio per i problemi di precariato e di crisi economica che ci sono stati ultimamente. Non so a cosa vado incontro. Non so se troverò lavoro, se lo troverò qua a Torino, se dovrò andare a Milano, a Roma o all'estero. Sono abbastanza convinto che se la fase che si è aperta con Pomigliano e Mirafiori dovesse estendersi poi anche agli altri campi, non solo al metalmeccanico, obiettivamente un pochino di timore c'è. La questione di Mirafiori sarà più leggibile tra qualche tempo, quando saranno più evidenti le ripercussioni concrete sulla vita dei lavoratori. Quello che ci possiamo augurare è che le riforme e i cambiamenti siano sempre positive per la vita dei lavoratori, perché si lavora per vivere e non viceversa. Grazie. 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 Grazie.